Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui introdurremo quella che è la libreria Plotly JavaScript, ovvero la libreria che utilizzeremo per andare a generare le visualizzazioni sulla base di dati che potremo caricare utilizzando meccanismi di tipo Ajax e che poi andremo a inserire all'interno di una pagina HTML che contiene nel codice JavaScript. Quello che è la libreria Plotly è sostanzialmente una libreria che è di alto livello quindi non dobbiamo andare a definire le minime operazioni necessarie per fare la visualizzazione ma abbiamo delle istruzioni di alto livello, è di tipo dichiarativo e quindi non dobbiamo scrivere delle istruzioni vere e proprie ma semplicemente andiamo a dichiarare quali sono i dati, come vogliamo che vengano messi e poi senza andare a scrivere istruzioni di tipo for o chiamate esplicite a funzioni la libreria prende queste dichiarazioni che sostanzialmente sono degli oggetti JavaScript e le interpreta e quindi genera il nostro diagramma. È basata su due altre librerie che si chiamano di tre JS e WebGL che sono delle librerie che permettono di andare a fare delle visualizzazioni molto più dettagliate di basso livello i cui dettagli però vengono nascosti da Plotly che è una libreria che ha grandi capacità ed è sostanzialmente equivalente a librerie che possiamo trovare in altri pacchetti di software scientifico. Un altro aspetto utile e importante di Plotly JS è che è autocontenuta, per cui io posso andare a mettere all'interno di un'unica dichiarazione la descrizione del mio grafico e quello può essere utilizzato come punto di partenza per andare a visualizzare il mio grafico. Come funziona? Allora, abbiamo due elementi che vengono utilizzati all'interno della libreria Plotly JS, in particolare una prima parte che si chiama Tracks, ovvero le tracce. Le tracce servono per andare a definire quali sono i dati e qual è il tipo di visualizzazione che vogliamo per quei dati. Le tracce sono definite come un array, anche se ce n'è una soltanto, e al suo interno abbiamo degli elementi e questi elementi sono sostanzialmente degli oggetti. Vedete che abbiamo tre graffe. Gli oggetti normalmente hanno delle proprietà che sono le coordinate X, le coordinate Y e un elemento che vi dice che tipo di rappresentazione grafica voglio andare a definire. Quindi le tracce contengono i dati e anche l'indicazione di tipo di mapping dal dato alla visualizzazione grafica. Abbiamo poi un altro elemento che è il layout. Il layout serve per andare a definire quelle che sono le regole generali, quindi non semplicemente il mapping, ma altri elementi di contorno, quali ad esempio il titolo che vogliamo mettere al nostro grafico e i margini che vogliamo andare a disegnare attorno all'area del grafico in cui viene effettuato il mapping. Quindi dati e mapping, i due elementi fondamentali all'interno delle tracce e il layout separato. A questo punto una volta che abbiamo le tracce e layout andiamo a chiamare il metodo plot dell'oggetto plotly che è predefinito all'interno della libreria nel momento in cui la importiamo e andiamo a indicare quello che è l'id dell'oggetto al cui interno andremo a fare la visualizzazione, i due altri due parametri sono per l'appunto le tracce e il layout. A questo punto una volta che lanciamo questa istruzione la libreria plotly andrà a cercare l'elemento con questo id, utilizzerà le tracce per andare a capire quali sono i dati e qual è il mapping dai dati alla visualizzazione e andrà a utilizzare il layout per le informazioni di contorno. Per cui il risultato dei dati che abbiamo visto prima e del layout è quello che vediamo qua. Quindi questo è sostanzialmente quanto viene generato da plotly. Un aspetto molto interessante è che plotly genera dei grafici che sono interattivi per cui se io vado a posizionarmi sul grafico quello che posso fare è andare a vedere ad esempio i valori delle coordinate specifiche dei miei punti. Quindi vedete che ho un asse x, un asse y, i punti avendo definito uno scatterplot sotto sostanzialmente ho generato dei punti connessi tra le linee. Qua su in cima mi viene mostrata quella che è una barra in cui posso per esempio fare lo zoom del grafico, posso spostarmi, ad esempio se faccio un'operazione di pan, trascino, vedete l'asse x, posso trascinare l'asse y e qui ho tanti diversi aspetti che possono essere sfruttati andando a utilizzare queste librerie. Posso soprattutto avere una visualizzazione interattiva. Ovviamente posso andare ad esempio per selezionare un sotto insieme degli elementi che sono visualizzati spostando il grafico e via di questo passo. Che tipi di grafici possiamo andare a generare utilizzando plotly? Allora le tipologie predefinite sono quelle che vediamo qui, quindi scatter che è l'esempio che abbiamo visto prima, possiamo utilizzare delle barre, quindi un diagramma a barre, possiamo utilizzare degli histogrammi, gli histogrammi sostanzialmente sono uguali a diagrammi a barre ma fanno loro il conteggio, quindi dato un x e un y, scusate, dato sostanzialmente un valore x, i valori distinti che vengono trovati nel nostro dato x vengono conteggiati e quindi viene poi generato un diagramma che corrisponde dall'altezza delle barre. Possiamo utilizzare delle heatmap, possiamo utilizzare una variante delle heatmap che sono gli histogrammi in due dimensioni, quindi quando x e y vengono contate le combinazioni dei diversi valori di x e y, posso andare a generare dei boxplot, posso andare a generare dei plot di tipo area e questi sono i tipi principali. Ovviamente abbiamo anche per andare a considerare 2D quello che si chiama un contour plot, quindi ho la terza dimensione che è data dalla coordinata z che mi dà l'altezza anche in termini di histogramma e poi ho, se voglio andare a visualizzare delle mappe, lo scattergeo e il coroplet, quindi lo scattergeo sostanzialmente mi permette di andare a mettere dei punti all'interno di, che vengono interpretate, le cui coordinate vengono lette dai dati, oppure una mappa di tipo coroplet in cui le zone della mappa geografica, ad esempio le nazioni, vengono colorate in maniera diversa e poi ovviamente ho anche i diagrammi a torta. Come funziona invece per quanto riguarda il layout? Nel layout io posso andare a definire diversi aspetti, ad esempio il testo che viene mostrato quando vado a fare l'over sui punti, la relativa formattazione, le dimensioni del grafico, le leggende che posso aggiungere, il titolo, il titolo delle leggende, i titoli degli assi, il tipo di testo e le sue caratteristiche, la formattazione degli assi, quindi quali assi, come vengono messi, con che notazione vengono definite i valori, ad esempio posso andare a dire che un certo asse rappresenta delle percentuali, quindi in questo modo vengono interpretate, oppure delle date, ed eventuali annotazioni che io posso aggiungere al mio grafico, quindi posso andare a mettere delle etichette all'interno del grafico, per esempio, per andare a evidenziare alcuni aspetti. Qualche esempio dei vari tipi di grafico. Allora, quando noi andiamo a gestire degli scatterplot, noi abbiamo la possibilità di andare a definire delle caratteristiche dei marker e delle linee, in questo caso specifico, quando ho definito i marker, ho dato questa informazione, ho detto che il colore doveva essere verde, infatti vedete che all'interno è verde, la dimensione è 10, quindi sono un po' più grandi rispetto ai marker di partenza, e il simbolo è il diamond, quindi il rombo. Per quanto riguarda le linee, il colore è arancione, la width è di tipo S, quindi è abbastanza sottile, le dimensioni sono SML, come le taglie delle t-shirt, e poi il tipo di forma è una spline, quindi sostanzialmente è una curva che accompagna i miei punti. Non mettendo nulla, normalmente vengono connessi tramite dei segmenti retti. Per cui, questo è il codice che ha generato il diagramma di prima. Se andiamo a considerare i bar plot, possiamo andare a identificare un orientamento orizzontale o verticale, e per quanto riguarda il marker, il marker identifica la barra in sé, per cui posso andare a definire un colore, e le linee che rappresentano il contorno del mio marker, e quindi per i quali posso andare a definire sia lo spessore che il colore. Quindi in questo caso vedete che il colore è arancio e il bordo è un colore viola, e lo spessore lo vediamo qua, quindi colore viola e spessore 2. Questo è un esempio di bar plot, anche qui per il marker posso andare a definire un colore, e per la linea posso andare a definire il colore e lo spessore, quindi il colore sta sostanzialmente nel riempimento, e la linea è la linea che sta attorno. Per quanto riguarda i box plot, come vedete in questo esempio, quando io vado a mostrare, vado a fare un over, mi viene evidenziata la categoria a cui corrisponde, e mi vengono evidenziati il valore massimo, il terzo quartile, la mediana e il primo quartile. Senza che io debba fare nulla, questo è automaticamente definito all'interno della nostra libreria che si chiama plotly.js. Quindi come vedete in questo caso io ho definito esclusivamente i valori x e y, qui li ho presi da due dati, due file, due array che sono già presenti in questo file, il tipo e box, vado a definire un marker che è sostanzialmente il colore dei punti, e il viola invece è il colore che viene dato al mio box plot, con il riempimento che è sostanzialmente una versione trasparente del colore che vado a specificare qua. Per quanto riguarda le mappe, ad esempio questo è uno scatter geo in cui ho il tipo scatter geo e invece di utilizzare x e y vado ad utilizzare le due proprietà long e lat che stanno per l'appunto per longitudine e latitudine. All'interno del layout io posso andare a specificare i limiti, quindi l'intervallo di latitudine e longitudine che voglio mostrare e il tipo di proiezione che viene utilizzata per andare a generare la mappa. In questo caso specifico vedete che ho messo le coordinate di Roma e di Torino e le ho inserite in questo modo, quindi latitudine 41,8 e 45, longitudine 12 e 7, che rispondono per l'appunto a Roma e Torino. La proiezione in questo caso è una proiezione equirettangolare che senza entrare nei dettagli va bene se io voglio andare a proiettare un'area molto piccola del globo terrestre. Ho definito che voglio mostrare gli oceani e i fiumi e il colore degli oceani è azzurro, che è sostanzialmente quello che vediamo qua per il nostro mare mediterraneo. Lo scope è l'Europa, quindi vado a mostrare esclusivamente le informazioni relative all'Europa, infatti se notate qui in basso c'è un'area bianca che corrisponde all'Africa, ma visto che abbiamo messo come scope soltanto Europa, i confini sono mostrati esclusivamente per le nazioni europee. e in più vado a definire lat-axis e long-axis, che sono due range che mi danno l'intervallo di latitudine e longitudine che voglio andare a mostrare all'interno del mio diagramma. Altro tipo di mappa che posso andare a utilizzare è la mappa di ipocoropletico in cui la variabile z viene mappata su un colore e il colore corrisponde per l'appunto al valore. Qui ad esempio ho mostrato il GDP di Cina, Stati Uniti, e poi qui lo vedete, io adesso provo ad avvicinare, a fare uno zoom, anche dei tre paesi dell'Europa, quindi Italia, Francia e Germania. Quindi vedete che la mappa è interattiva, io quindi posso andare a fare uno zoom e andare a vedere i dati. Ovviamente i dati sono visibili comunque anche andando a mostrare in questo modo, andando a fare un over. Di nuovo, quello che io ho fornito sono i nomi dei paesi, il valore del loro GDP e il resto è fatto tutto da Plotly. Qui, questo è il dato che ho messo, quindi ho messo come tipo di dato coroplete, coroplete che in realtà ha questo tipo di dato, questo è l'id dell'elemento in cui viene disegnato, i nomi, ovviamente qui devo utilizzare i nomi standard ufficiali ISO, i valori che vado a mostrare, questo è il prodotto interno lordo, il texte che quindi mi viene mostrato quando io vado a mettermi sopra, quindi qui mi viene mostrato China ad esempio, l'autocolorscale che è sostanzialmente un suggerimento a mettere, a generare in maniera automatica questa scala di colori, vedete tra l'altro che rispetta tutte le raccomandazioni migliori, quindi è un colore unico, quindi una tinta unica, non è un mapping arcobaleno, e sostanzialmente utilizza sia la saturazione che la saturazione e la luminosità, quindi una luminosità alta e saturazione bassa, luminosità più bassa e saturazione più alta. Altro aspetto, ho detto che l'over info è il valore della variabile Z più il testo, che quindi è questa etichetta che ho messo, e poi ho messo di andare a indicare nella barra di colore che mi mappa il valore Z, un prefisso dollari e come titolo GDP in miliardi di dollari US. Un altro aspetto che io posso aggiungere, quindi come ultimo dettaglio che vado a definire per il mio grafico, sono ad esempio i valori text che sono associati ai singoli punti, quindi i due array X e Y ovviamente devono avere la stessa lunghezza, text deve avere la stessa lunghezza in modo che corrisponda ai punti che ho definito, e poi posso andare a definire la variabile over info che abbiamo visto prima, nell'esempio può avere come valore X, Y, Z, text, quindi va a riportare i valori del punto presi da queste tre varianti, name, quindi non riporta il valore ma semplicemente il nome della serie di punti che ho indicato, all, none, oppure una combinazione di questi primi mettendo un più, ad esempio nel caso precedente ho messo Z più text, e quindi mi viene riportato il valore nell'array Z più il testo che ho riportato per quel punto. Qui ad esempio in questo caso Y più text, ho messo 4 che è il valore di Y più text, e quindi ho messo questi due valori. Infine posso definire un quarto parametro del metodo plot, che è un oggetto che può avere due proprietà, static plot, che quindi mi genera un plot che è statico, quindi non interattivo, quindi non risponde all'over, come abbiamo visto nei casi precedenti, non permette di fare zoom o altre operazioni di questo tipo, e display mode bar, che sostanzialmente mi nasconde la barra che compare in alto, lo vediamo qui, quando io mi posiziono sul grafico, quindi mi viene mostrata questa barra con una serie di opzioni, e questa mi viene nascosta. A proposito di queste opzioni, ecco, vediamo un attimo, la prima opzione è quella di scaricare il grafico, così come è mostrato in forma di PNG, la seconda è quella che mi permette di fare uno zoom, ho l'opportunità di fare un'operazione di PAM, quindi far scorrere il mio grafico, posso andare a selezionare un'area particolare, che poi mi verrà mostrata, posso fare una selezione di alcuni dati, che poi quindi mi verranno mostrati, posso fare un'operazione di zoom in o zoom out, molto semplice, posso fare un autoscale, che quindi mi mostra sostanzialmente quello che vediamo adesso, cioè degli intervalli per l'asse X e per l'asse Y, che siano in grado di farmi vedere tutti i punti che ho messo, oppure home, che è quello che mi riporta alla visualizzazione e alle dimensioni, agli intervalli degli assi X e Y originali. posso andare a utilizzare le linee, oppure posso andare a mostrare l'over più prossimo, oppure fare andare a fare un confronto dei valori utilizzando l'over, quindi in questo caso l'ho configurato diversamente, quindi non funziona. Un altro aspetto importante di Plotly, ma in realtà di tutte le librerie, è la capacità di poter acquisire dei dati esterni che vengono visualizzati. Come lo faccio? Abbiamo detto che ci sono quelle librerie su cui Plotly è basata, in particolare c'è la libreria D3JS, che ha delle funzioni che permettono di andare a leggere dei dati JSON e dei dati CSV, per cui Plotly ha queste funzioni, Plotly.d3.json e Plotly.d3.csv, che mi permettono di andare a fare la lettura di un file JSON e di un file CSV. Entrambe queste funzioni ricevono due parametri, il primo è l'URL del dato che devo andare a recuperare, ricordate che vale comunque sempre il limite sulle richieste di tipo cross origin, quindi i dati normalmente devono stare sullo stesso server in cui viene scaricato il JavaScript. E il secondo parametro è una funzione callback che verrà chiamata nel momento in cui i dati sono caricati. Questa funzione a sua volta avrà due parametri, un valore che mi dice se c'è stato un errore e i dati che ho letto. Per cui, ad esempio, se voglio andare a leggere dei dati JSON che si trovano in questo file classifica 2016.d3.13, che si trovano nella cartella dataset sulla pagina del corso, vado a specificare l'URL e poi vado a specificare la funzione che ha l'errore e l'oggetto JSON che viene letto. Se non c'è nessun errore, error è sostanzialmente non definito, undefined, quindi if error, sostanzialmente se error contiene un valore, stampo un messaggio d'errore e termino. Altrimenti vado a definire un mio oggetto traccia che contiene la proprietà X, la proprietà Y, inizializzate come array vuoti, vado a dire che il tipo è un bar e l'orientamento è orizzontale. E cosa faccio? Vado a scandire tutto ciò che c'è nel oggetto JSON.data, ricordatevi che il JSON che si trovava in quell'indirizzo, che avete anche usato per dei laboratori, contiene una proprietà data che è un array con i dati della classifica. Ognuna di queste righe ha nella prima cella il nome del team e nella seconda cella i punti della squadra. Quindi cosa faccio? Faccio trace.y.push il nome del team, trace.x.push i punti. Vi faccio notare che io metto nella variabile X il nome della squadra perché il mio diagramma bare ha un orientamento orizzontale, quindi sulle Y ci saranno i nomi delle squadre e la X invece andrà a rappresentare il punteggio. Quindi una volta che ho i miei dati vado a riempire la mia traccia con i dati che vado ad estrarre dal JSON e poi faccio una chiamata a plot.plot, JSON.load è il nome dell'oggetto HTML, dell'elemento HTML in cui vado a disegnare, vado a mettere la mia traccia, vi faccio presente che la traccia in questo caso è stata definita come un oggetto, ok? Ma il mio metodo plot pretende che la traccia sia un array e per cui vado a costruire un array che ha un unico elemento che è l'oggetto trace che ho appena definito e poi vado a passare un layout che è qui una variabile che ho predefinito con dei valori standard che non sto a riportare per semplicità. Il risultato è quello che possiamo vedere qua. Quindi abbiamo le nostre squadre, abbiamo le barre che corrispondono al punteggio, abbiamo l'over che è il solito, abbiamo il titolo del nostro grafico, tutto definito tramite il codice JavaScript che abbiamo visto prima. Altro esempio, carico i dati di un file che si chiama meteo Torino, che contiene i dati delle informazioni meteorologiche di Torino, anche qui oltre all'url metto la funzione, verifico che non ci sia nessun errore, dopodiché vado a creare un oggetto trace con x, y e a questo punto vado a mettere come tipo scatter. A questo punto faccio un ciclo su tutte le righe di data, il dato che ho preso, punto l'enter. Per semplicità vado a dire che row è uguale a data di i e poi faccio row di anno, row di mese e row di giorno e vado a costruire un'unica stringa che contiene anno, trattino mese, trattino giorno. Questo mi va a definire il formato standard ISO, in cui ho anno, trattino mese, trattino giorno, che può essere interpretato da plot.ly come una data e quindi mi verrà rappresentato correttamente sull'asse andando a considerare le date. Dopodiché vado a utilizzare questa, che è una espressione regolare, che mi permette di andare a estrarre il numero dalla media della temperatura, escludendo sostanzialmente la dicitura gradi. Quindi vado ad eseguire la mia espressione regolare e estraggo il valore numerico. E il valore numerico lo vado a mettere all'interno della mia variabile y. Quindi vado a fare un push all'interno di questo array y. E poi, ultimo passaggio, come al solito, esattamente come prima, chiamo plot, passando l'id dell'elemento in cui andavo a disegnare, un array che contiene sostanzialmente una traccia, perché è un'unica traccia, e poi il layout che ho definito separatamente, che qui non mostro per semplicità. Risultato? Ecco, queste sono le temperature medie di Torino negli anni 2014-2015, per cui abbiamo l'andamento in ogni data. Vedete che qui, avendolo formattato come mese, usate, anno, mese e giorno, automaticamente è riconosciuto come data e quindi viene dimostrato correttamente per ogni istante. Vedete che ovviamente qui non posso rappresentare tutte le date, quindi plotly me ne ha rappresentate soltanto alcune. Ma se vado a posizionarmi qui, vedete che ho la data specifica evidenziata sotto, quindi ad esempio il 22 maggio del 2015 c'era stata una media di 15 gradi, mentre invece pochi giorni dopo, il 6 giugno del 2015, la temperatura media è stata di 27 gradi. Infine, un esempio di mappa cloropletica. In questo file ci sono sostanzialmente i dati relativi alle affluenze elettorali in vari paesi per le elezioni europee del 2019. Non sto a entrare nel dettaglio, sostanzialmente quello che ottengo è una mappa cloropletica di questo tipo, in cui sostanzialmente per ogni paese ho un identificativo, che è il suo codice univoco, ad esempio per la Germania, per l'Italia, e una percentuale che è l'affluenza elettorale. Come al solito ho una barra con intensità di colore, questi livelli di colori sono stati calcolati automaticamente da plotly. Altro aspetto, sostanzialmente vado a prendere il dato dell'anno 2019 e lo divido per cento in modo che venga considerato come mappa. Alcune caratteristiche aggiuntive, alcuni elementi che posso andare a toccare. Allora, ad esempio qui ho usato i dati sul prodotto interno lordo di Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Cina, quindi ho una Y che è il nome del paese, X che è il valore e il testo che è il suo codice. Per cui se vado a prendere, ad esempio, la Francia ho 2902. Ho messo che il mio è uno scatter plot e ho indicato come modalità markers. Quando metto con questa modalità in uno scatter plot, quello che ottengo sono esclusivamente i punti e non le linee. Infine ho dato una dimensione 10 ai miei punti e ho detto che sull'over voglio andare a mostrare il text, quindi questo codice qui e la X che corrisponde al prodotto interno lordo. Ho definito qua un margine e poi vado a definire la traccia. Vedete che l'ho rappresentata come un array con un unico oggetto. Il layout che ho indicato qua e questo è un file di configurazione che sostanzialmente mi nasconde la barra e quindi mi permette di vedere meglio il mio grafico. Altro esempio, barra orizzontali. Anche qui vado ad esempio a utilizzare delle caratteristiche specifiche per l'asse Y. Quindi l'asse Y dico che ha un valore out of range reversed. Quindi i dati che io qui metto prima Italia e poi per ultimo Cina vengono mostrati con l'Italia in alto. Altrimenti il primo dato che mostro è quello più vicino all'asse orizzontale. Mentre invece in questo caso il primo valore è quello più in alto, che è, se vogliamo, un po' più intuitivo in termini di quello che ci aspetteremmo normalmente. Quindi altra caratteristica che posso utilizzare è definire dei grafici di tipo scatter andando a mettere una caratteristica che si chiama fill che mi dice come faccio il riempimento. Il fill mi riempie l'area sottostante una certa linea e in particolare posso mettere varie possibilità, in particolare la 0 to Y mi riempie tutta l'area che sta sotto un'area fino all'asse. Un'altra modalità è 2 next Y. E quindi in questo caso il grafico sotto questo secondo linea viene riempito ma non fino alla base ma bensì solo fino all'altro valore Y corrispondente. Quindi coloro solo questo oppure qui coloro da qui fino al valore sopra. Quindi vedete che qui ho una sovrapposizione di due riempimenti, quello del primo valore, qui della prima serie che si chiama first e della seconda serie che si chiama second. In particolare qua vediamo anche che all'interno dell'array traces ho una prima serie e una seconda serie. Come faccio a distinguere? Beh, lo faccio tramite una proprietà che si chiama name che nei casi precedenti non ho mai utilizzato perché in realtà ho sempre utilizzato un'unica serie di dati. Quel nome viene poi utilizzato per andare a mostrare la leggenda che vediamo qua di fianco al nostro grafico. Infine, quando vado a mostrare delle diagrammi a linee posso andare a scegliere il diverso tipo di linea. Sostanzialmente ho quattro tipologie di linea. Il primo è quello che vediamo qua e quello che si chiama line, quindi sostanzialmente disegno un segmento tra i due punti. Un'altra possibilità è quella che si chiama HV, quindi quando ho due punti li unisco con una coppia di segmenti. Il primo segmento è orizzontale, il secondo è verticale. Oppure posso utilizzare VH, quindi quando ho due punti, questo e questo, li collego con una coppia di segmenti dove il primo è verticale, il secondo è orizzontale. Oppure, ultima possibilità, questa verde, dove ho sostanzialmente quello che si chiama uno spline. Uno spline sostanzialmente è una curva definita come un'espressione che è sostanzialmente un polinomio di terzo grado che ha una serie di vincoli. Sostanzialmente deve passare per i punti, ovviamente, e in più negli elementi in cui le due curve, perché questa non è un'unica curva, ma sono varie curve che vengono messe in corrispondenza dei punti, vengono fatte incontrare in corrispondenza dei punti, la derivata prima e la derivata seconda in questi punti viene messa uguale per questa curva e per quest'altra curva. E quindi vado a costruire quella che è sostanzialmente una spline. e posso andare a definire la modalità andando a definire la proprietà shape della mia traccia a line oppure spline, hv oppure vh. E questo sostanzialmente definisce la tipologia di linea che unisce i due punti di un diagramma di tipo scatter. Ovviamente all'interno di un diagramma posso andare a mettere più grafici, lo vediamo in questo esempio. Vedete che qui ho un diagramma bar e qua sopra un diagramma di tipo scatter. I due diagrammi sono messi uno vicino all'altro e utilizzano ovviamente due scale diverse. Quindi il diagramma bar utilizza questa scala, l'altro diagramma di tipo scatter utilizza un'altra scala che è quella che vediamo qua. Come faccio a fare questo? Beh, sostanzialmente definisco due tracce. La prima di tipo bar e la seconda di tipo scatter. In una di queste tracce vado a indicare che voglio utilizzare un asse secondario. Quindi ad esempio vado a dire che l'y axis è y2 e quindi vado a utilizzare un secondo asse y. Ovviamente posso anche utilizzare un secondo asse x se gli voglio mettere uno di fianco all'altro invece che uno sopra l'altro. Dopodiché che cosa faccio? Vado a definire le caratteristiche dell'asse x dell'asse y e dell'y axis 2 quello che corrisponde alla mia seconda traccia. Un aspetto importante quando vado a definire l'asse y e l'asse y l'asse y e l'asse y2 è questa proprietà che si chiama domain ovvero vado a indicare rispetto alla completa estensione del mio grafico dove si situa questo asse. per semplicità l'estensione verticale completa viene rappresentata come un valore che va da 0 a 1 quindi in questo caso dominio che va da 0 a 0,49 vuol dire che ho un grafico o scusate un asse y principale che va dall'elemento più basso possibile fino a circa la metà dell'estensione mentre invece l'altro dominio va da 0,51 a 1 quindi va da poco più oltre la metà dell'estensione possibile nell'y fino all'estensione massima. Ovviamente io in questo modo posso anche andare a definire più intervalli e posso andare a distanziare di più i miei grafici quindi 0,49 e 0,51 mi danno una distanza che è quella che vediamo qui molto ridotta. Se voglio avere più distanza semplicemente mi basta andare a utilizzare dei domini che sono più distanziati. Infine un aspetto che forse avevamo visto in qualche esempio prima che non avevo sottolineato posso anche utilizzare una proprietà che si chiama tick format che mi dice qual è il formato con cui vengono messe le etichette in corrispondenza delle varie tacche che si trovano sull'asse in questione per cui tick format uguale a percentuale mi dice sostanzialmente che il formato delle etichette sull'asse y quello primario sarà un formato percentuale quindi andrà a interpretare i valori tra 0 e 1 come percentuali e di conseguenza qui mi andrà a mettere dei valori che sono rappresentati come percentuali. Questo era sostanzialmente una panoramica molto veloce sulla libreria Plotly ovviamente avete online un riferimento quindi tutto quello che potete sapere e inoltre avete a disposizione sul sito del corso un file che si chiama Plotly Cheat Sheet che riporta sostanzialmente le configurazioni principali che possiamo utilizzare per andare a disegnare diversi tipi di grafici e quindi potete utilizzare quello come un riferimento sostanzialmente facendo un po' di copy and cover dei dati per andare a generare diversi tipi di grafici di idea perché ogni volta sotto i quei necessari un po' di Grazie a tutti.